Ben ritrovati dalla redazione di Vicianotizia in quest'ultima sera del 2023 per questa edizione del nostro telegiornale. In apertura affrontiamo il tema della Casa con il Presidente di ATC Marco Marchioni. Facciamo il punto della situazione sull'edilizia popolare e le prospettive per il 2024. Si chiude un anno complesso dove sono emerse il nostro malgrado nuove imprevedibili criticità a minare la serenità dei nostri 60.000 utenti. Purtuttavia abbiamo proseguito per quanto possibile a investire, grazie alle risorse interne della Regione e del Governo, per migliorare lo stato dell'arte del nostro patrimonio immobiliare, in parte vetusto, di oltre 15.000, tra alloggi, negozi e garage. L'edilizia popolare deve rispondere alle fragilità, ma assegnare una casa non basta più. Serve accompagnare queste persone dal punto di vista del lavoro, sociale, della salute e anche morale, e occorre pianificare risorse costanti verso questo comparto anche nel medio e lungo periodo. A tracciare il quadro è Marco Marchioni, Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Nord. La popolazione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ha subito nel tempo notevoli trasformazioni e il recente sblocco dei fondi ex GESCAL, che questa amministrazione regionale è riuscita a ottenere, rappresenta un risultato importantissimo, arrivato in un momento socialmente molto delicato, dove, come noto, è aumentato in misura significativa il numero di famiglie che necessitano di una casa. Gli ex GESCAL, oltre 10 milioni, suddivisi sulle tre agenzie, di cui circa 2 milioni e 500 mila euro sono andati al Piemonte Nord, ci consentiranno, tra le altre, di realizzare 32 alloggi nelle quattro province. 12 nel Novarese, 8 nel VCO, 6 nel Vercellese e 7 nel Biellese. Due le linee di intervento. La prima, volta all'efficientamento energetico. La seconda, che riguarda opere di manutenzione straordinaria di singoli appartamenti, attualmente non assegnabili per gravi carenze. A questi 10 milioni se ne aggiungono ulteriori 8, di accantonamenti, dei quali oltre 2 milioni e 650 mila euro a favore del Piemonte Nord. Dietro a questo, risultato, va rimarcato, ci sono anni di lavoro. Conferenza stampa di fine anno per il senatore di Italia Viva, Enrico Borghi. Tanti temi trattati a cominciare dalla sanità, dal progetto della città della salute di Novara, fino alle novità che riguardano gli ospedali del VCO. Ha parlato di sanità oggi, è partito da quella che è la notizia del giorno, cioè un bando deserto per la città della salute di Novara, un ospedale che nelle intenzioni e nella programmazione della regione è per forza di cose un punto di riferimento anche per la sanità, per il VCO, valutato che avremo due ospedali. Lei ha giudicato questo passaggio in maniera molto negativa. La notizia della mancata realizzazione della città della salute di Novara è una notizia pessima, perché quello è il perno attorno al quale si costruisce l'offerta di servizio di sanità pubblica di tutto il territorio del Piemonte orientale, Verbano Cusiossola compreso. Noi ci troviamo a non avere più l'ipotesi dell'ospedale nuovo di Ornavasso, a non avere più l'ipotesi della città della salute di Novara, ad avere un'ipotesi di due monconi di un ospedale unico plurisede nel VCO che produce inefficienza e perdite, e a non avere più l'ospedale Hub di Novara verso il quale si sarebbe dovuto convogliare tutto quel livello di prestazioni che non viene più assicurato su questo territorio. Insomma, una prospettiva che rischia soltanto di rendere strutturale il turismo sanitario, cioè sia in termini diagnostici sia in termini prestazionali, noi da questo territorio siamo costretti ad andarcene altrove, perché qui non ci sono quelle risposte che ci dovrebbero essere, e chi doveva dare queste risposte, cioè la Regione, Cirio e i Cardi, hanno combinato un grandissimo disastro. Lei ha anche detto che in un paese normale i manager che sostanzialmente fanno deficit devono andare a casa, è riferimento anche all'AS del VCO. Ma guardi, l'AS del VCO ha un bilancio in perdita da anni, è stato ripianato attraverso misure straordinarie che abbiamo fatto noi a Roma, a noi i contestatissimi romani, e da Torino hanno preso i soldi dello Stato e hanno ripianato i deficit del VCO costantemente. C'è un piccolo particolare che adesso questi soldi straordinari portati avanti a debito perché c'era il Covid, non ci sono più. Forse anche per questo che mettono le mani nelle tasche dei frontalieri per pagare questi deficit. E ora i progetti in partenza a Omenia per quanto riguarda l'assessorato di Mimma Moscatiello per cultura, animali e inclusione sociale. Assessore, ci sono tante cose che vollono in pentola in vista del 2024, due o tre progetti a cui tiene particolarmente. Allora, una cosa assolutamente nuova che per la prima volta si è fatta a Omenia è una convenzione con un'associazione che si occuperà dei felini, quindi di tutti i gatti che vengono abbandonati sul territorio della città di Omenia. Noi abbiamo oltre dieci colonie feline e necessitano di cure da tutti i punti di vista, dalla prevenzione del randagismo, quindi le sterilizzazioni, alla tutela sanitaria, alla cura quotidiana. Con questa associazione riusciamo a garantire questo tipo di servizio. Abbiamo rinnovato anche con gli amici del cane la convenzione per la gestione del nostro canile e insieme agli amici del cane abbiamo anche sottoscritto la convenzione con gli altri 24 comuni che fino ad oggi ci hanno dato fiducia, proprio perché abbiamo una realtà che risponde immediatamente alle esigenze del territorio e non solo del Cusio ma anche di parte del Vergante e anche di parte della Bassa Ossola. Quindi questo ci fa onore. Altra cosa interessante sul quale stiamo lavorando con il Parco della Fantasia che conta oltre 50.000 presenze nei vari settori tutto l'anno, stiamo lavorando per portare gli studenti universitari a frequentare questa realtà e quindi formarsi su quella che è l'attività legata a Gianni Rodari. Altra cosa estremamente importante, stiamo costruendo dei patti di intesa con le principali associazioni culturali del territorio, che sono Mastronauta, la Fondazione Parco, la Soms e Dragolago, perché insieme lavoreremo per procacciare i fondi attraverso l'utilizzo dei bandi, sia nazionali, quindi regionali, piuttosto che del PNRR e bandi europei, perché crediamo che la cultura fatta insieme in sinergia ci aiuterà a portare anche quel turismo culturale che servirà a far crescere la città. Un altro aspetto importante è che a livello di protezione civile abbiamo vinto un bando di 15.000 euro in notizia proprio di ieri e anche questi fondi verranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature per rendere più sicuro il nostro territorio, perché un gruppo di volontari che ha tutto ciò che è necessario può essere immediatamente sul territorio, speriamo mai, ma nel caso che compaiono delle calamità o degli eventi in cui è necessario il loro intervento. Siamo anche contenti di poter dire che gli invincibili avranno il loro pulmino perché anche per loro abbiamo vinto un bando e quindi avranno un pulmino. Grande successo nei giorni scorsi al Teatro Maggiore di Verbagna per il concerto della fanfara dei Bersaglieri Valdossola. Come è nato l'abbinamento per questo meraviglioso concerto? È nato quasi per caso perché ci siamo incontrati con Guido Tomà e il presidente della fanfara e ci hanno chiesto sostanzialmente se era possibile suonare, insomma loro ci tenevano a suonare a Verbagna nel loro capoluogo di provincia e da lì è nata questa bellissima idea di fare questo concerto di Natale. Mi pare che sia andato. E possiamo dire che il risultato meriti l'impegno che ci avete messo? Io direi che il risultato è meraviglioso. I Bersaglieri e il capo fanfara Guido Tomà ci hanno accompagnati in un viaggio che ci ha raccontato un po' la storia dei Bersaglieri, un po' la storia delle loro musiche e lo abbiamo fatto con un fine benefico. I Bersaglieri hanno portato all'entusiasmo il numeroso pubblico venuto questa sera al nostro Maggiore con il loro concerto di Natale, un concerto che per la prima volta è stato affidato a una fanfara dei Bersaglieri, la fanfara Bersaglieri Valdossola. Dicevo entusiasmo, ma voi avete calcato palcoscenici un po' in tante parti d'Italia, avete detto che siete stati anche all'estero, penso che anche il concerto di questa sera per voi sia stato un po' un'emozione particolare. Sì, per noi è stata un'emozione particolare perché era la prima volta che eravamo qua in questo teatro e come ho potuto dire prima l'ho definito il nostro teatro perché essendo ossolani questa è la nostra provincia e poi è emozionante perché è tanta gente ed è stato veramente bello. Siamo orgogliosi di aver portato il nostro concerto qui a Verbagna. Anche noi siamo orgogliosi di avervi ospitati. La scelta del repertorio di questa sera come è avvenuta? Questa è un po' una bella domanda. Di solito nei nostri concerti portiamo sempre le musiche bersaglieresche, le musiche popolari e abbiamo messo qualcosa di classico, un po' rivisto per fanfara. È stato un lavoro abbastanza difficile, però penso che il risultato ci sia stato. E il pubblico ha dimostrato di apprezzare tanto. Esatto, di apprezzare molto. Sì, siamo contenti. Sì, siamo contenti. E come da tradizione nell'ultimo giorno dell'anno vi proponiamo ora il riepilogo dei fatti salienti del 2023. L'anno inizia con una morte sul lavoro. Stefano Liotta, operaio di Romagnano Sesia, rimane schiacciato dal suo camion contro un calcello a Stresa. È il primo caso di morte bianca in Piemonte del 2023. Due lutti il 4 gennaio a Verbagna. Roberto Zanella, di 73 anni, per un malore perde il controllo dell'auto e finisce contro un cipresso. Si è spento a Londra all'età di 75 anni Antonio Trapani, il domese divenuto icona della cucina italiana del Regno Unito. L'11 gennaio, arresto della guardia di finanza di Domo su un treno per la Svizzera. Una nigeriana aveva in corpo 10 ovuli con 160 grammi di cocaina. Nuova morte sul lavoro. Il 12 gennaio, al cimitero di Castelletto Ticino, la vittima è un operaio di 62 anni di nazionalità albanese, caduto da una scala a Pioli. Terza morte bianca in tre settimane. Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, spaventoso incidente per due giovani a fondo toce che con l'auto finiscono nel canale. Fortunatamente nulla di grave per loro. Il 18 gennaio, il Tribunale di Verbagna rigetta la richiesta di Ferrovie del Mottarone. Il comune di Stresa non deve versare un milione all'ex gestore della funivia Luigi Nerini. Lutto il 19 gennaio nella famiglia di VCO Azzurra TV si è spento all'età di 71 anni Lucio Dinunzio, pubblicitario storico della nostra emittente. Infuogata assemblea Premosello Chiovenda, il 26 gennaio, Cuzzago non vuole sul suo territorio l'impianto per il trattamento dei rifiuti organici progettato da ConserviCO. I residenti lamentano troppo vicino alle case. Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio una grossa frana si è verificata a Crevola d'Ossola, danni alla cava di marmo di Palissandro. Non ci sono stati feriti. Il 2 febbraio viene trovato il corpo senza vita di Maurizio Giovale, ufficiale giudiziario del Tribunale di Verbagna, disperso da alcuni giorni durante un'escursione al Montolfano. Il 3 febbraio la notizia shock da Torino, tutto prescritto per il processo Tubor, sul fallimento dell'azienda verbanese. Il processo d'appello è stato fissato 10 anni dopo la sentenza di primo grado. Era segregata in casa e picchiata dal padre. La ragazza bengalese, liberata il 7 febbraio dai carabinieri di Stresa, l'uomo non accettava che la giovane si fosse fidanzata con un connazionale milanese perché aveva già un promesso sposo nel paese d'origine. Il 13 febbraio i carabinieri forestali denunciano uno svizzero. Il suo bracere, acceso, ha causato un vasto incendio che ha devastato i boschi di Monte Ossolano. Il 17 febbraio un altro morto sul lavoro alla cava Domo Graniti di Trontano ha perso la vita un operaio di 49 anni, Marco Pisano, di Pieve Vergonte. Il 14 marzo viene smantellato dopo un'indagine dei carabinieri di Stresa e il bazar della droga Carpugnino, 7 nordafricani denunciati. Il sottosegretario Rixi a Macugnaga il 18 marzo all'inaugurazione della funivia del Monte Moro dopo i lavori di manutenzione straordinaria. Investì una ragazza e non si fermò il 31 marzo la notizia archiviata all'indagine sul presidente della provincia Alessandro Lana. Certamenti hanno confermato la sua versione. Tragedia il 19 aprile stava attraversando al passaggio a livello con le sbarre abbassate. Walter Carneluti, pensionato di 79 anni, muore travolto dal treno a Crusinallo. Il 26 aprile, terremoto in politica, il senatore Ossolano Enrico Borghi lascia il PD. Entra nel gruppo d'Italia Viva, del quale diventa poi capogruppo in Senato. L'annuncio ufficiale al fianco di Renzi. Incidente stradale mortale il 28 aprile a Domodossola davanti al negozio Arca Planet in regione Nosiere. La vittima, Carmelo Mesiano, travolto da un'auto, aveva 88 anni. Il 29 aprile, un uomo di 45 anni, Michele Bonetto di Castelletto Ticino, è stato accoltellato a morte a Oleggio, in via Cantoni, a ucciderlo un vicino dal quale l'uomo di 64 anni voleva difendere la figlia. Il 29 aprile, tutta a Domodossola, piange Alessio Gersi, il pilota delle frecce Tricolori, precipitato in friuli a bordo di un'altra leggero. Aveva 35 anni. Incidente mortale la sera del 4 maggio nella galleria del Monte Crevola. La vittima, un poliziotto svizzero, forse per un malore, la sua auto è finita contro il muro, ha preso fuoco. Inutile il tentativo di un varzese che lo ha estratto dall'abitacolo di salvargli la vita. Il 9 maggio, la giunta regionale approva la delibera che sancisce il mantenimento dei due ospedali del VCO, Castelli e San Biagio, da rifare completamente con un investimento da 200 milioni di euro. Spaventoso incidente nella serata dell'11 maggio sulla statale 34 tra Giffa e Intra. La Fiat Panda del frontaliere verbanese di 21 anni, Simone Suabbi, che procedeva a tutta velocità, si è schiantata frontalmente contro un'altra Panda, morto il giovane, grave l'uomo, a bordo dell'altra auto. Il 12 maggio, tanta folla, per l'ultimo saluto a Domodossola al pilota Alessio Gersi. Lo stesso giorno, una buona notizia per Verbagna, che ottiene la bandiera blu, New Entry, con San Maurizio Dopaglio, confermate Cannobbio, Canero Riviera e Gozzano. Il 15 maggio, Daniele Berio, eletto sindaco di Omenia, con soli 10 voti di scarto rispetto a Mattia Corbetta del centrodestra. A Villa Dossola, confermato Bruno Toscani, a Belgirate, eletta Flavia Filippi, a Calasca Castiglione, Silvia Tipaldi, ognanco a Mauro Valentini, a Cesara Gian Carlo Ricca. Il 19 maggio, a pochi giorni dal secondo anniversario della tragedia del Mottarone, la procura notifica gli avvisi di chiusura delle indagini a sei persone e due società. Si profila invece l'archiviazione per altri sei indagati. Incidente mortale nel pomeriggio del 22 maggio a Fornero, in Valstrona, un'auto è uscita di strada mentre percorreva una via interpoderale in località Alpe Valfoglia. L'auto finisce in un dirupo, sbalzato fuori il conducente Natalino Capparoni del posto. I 24 maggio, riflettori del mondo della moda si accendono su Stresa, all'Isola Bella, l'evento della presentazione della collezione cruise di Louis Vuitton, parata di VIP internazionali. Il 28 maggio, naufragio a Lisanza, una tempesta affonda un houseboat a bordo 007 italiani e israeliani, quattro le vittime, due agenti dell'intelligence italiana, Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, Erez Scimoni, pensionato delle forze di sicurezza israeliane e Ania Bozcova, moglie dello skipper proprietario del Natante. Tomodossola vestita con il tricolore il 3 giugno per il centenario della sezione cittadina degli Alpini, due giorni di festeggiamenti. Delitto a Giffa il 15 giugno, Matteo Fiorini, 34 anni, viene trovato accoltellato nella sua casa a Susello e il giorno dopo viene fermato dalla polizia il presunto assassino Thomas Albertini di 25 anni, il movente sarebbe legato al mondo dello spaccio, il giovane finisce in carcere. Il 4 luglio incidente mortale lungo la superstrada dell'Ossola Elia Folloni di 18 anni di Baceno al volante della sua punto ha perso la vita schiantandosi contro un camion poco dopo lo svincolo di Domodossola. Altro schianto mortale a Pettenasco tra due moto l'8 luglio ha perso la vita un centauro di 58 anni della provincia di Vercelli. Il 5 agosto tragedia al monte Limidario sul versante italiano la vittima una 35enne ligure Giulia Bozzebon che si trovava in vacanza in Svizzera è scivolata per 150 metri sul versante italiano del monte lascia il marito e due figli. Il 14 agosto si concentrano in valle Vigezzo le ricerche di Alessia Proto-Spataro 49 anni di Milano ultimo avvistamento alla piana di Vigezzo il suo corpo senza vita viene trovato il 17 agosto nel rio Melezzo. Il livello del lago intanto è sempre più basso il 22 agosto l'appello del sindaco di Verbagna Silvia Marchionini che chiede la convocazione di un tavolo urgente alla regione. Il 25 agosto viene eseguita l'autopsia su un corpo ritrovato a fine luglio nel canale a Villa Dossola secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di Walter Fallarini il 53enne di Momo scomparso dopo un incidente stradale. Tragedia nel lago maggiore a Cannero una turista tedesca di 73 anni annegata nella serata del 3 settembre il corpo recuperato le due di notte dai sub dei vigili del fuoco. Il 12 settembre la procura di Verbagna deposita le richieste di rinvio a giudizio per la tragedia del Mottarone intanto Lightner Spa avvia risarcimenti per i familiari delle vittime. Terremoto politico ad Arona il 13 settembre il vice sindaco Alberto Gusmeroli annuncia a sorpresa la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni stessa intenzione avrebbe il primo cittadino Federico Monti così si spacca il centro-destra. Muore nell'incendio della sua casa Piero Bonetti 58 anni di Calasca Castiglione è successo nella notte tra il 18 e 19 settembre salvi il fratello e i nipoti. Il 22 settembre una frana a Verdasio in Svizzera ha bloccato la circolazione lungo la Centovalle fermi anche i treni tra Re e Locarno. Notte di paura in Valle Intrasca quella tra il 22 e il 23 settembre a Intragna la montagna è franata a smottamenti anche sulle strade per Aurano e Scareno. Domenica 24 settembre una frana in Valle Formazza travolge Matteo Barcellini e Marilena Bertoletti stavano percorrendo il sentiero tra la Liga dei Sabbioni e il Rifugio Città di Busto complesse e difficili le operazioni di recupero dei corpi che proseguono anche lunedì 25 settembre con un coinvolgimento ampio di uomini e mezzi. Risiedeva nel Milanese il fungiat morto in Valle Vigiezzo il 6 ottobre nei boschi di Arvogno nel comune di Toceno ancora un intervento per i soccorritori. L'8 ottobre altre due vittime accolle un verbanese stroncato da infarto a Falmenta un altro fungiat cade per 200 metri il 9 ottobre ad Arona cade l'amministrazione Monti 10 consiglieri si dimettono la città viene commissariata lutto nel mondo del giornalismo italiano il 10 ottobre ad Arona si è spento Ettore Mo inviato di guerra per il Corriere aveva 91 anni tragico incidente la mattina del 12 ottobre a Varzo muore travolta da un'auto Antonella Bigliardi di 64 anni lo stesso giorno si è spento nella sua casa di Arona Giannino Piana fino al 2000 sacerdote attivo nell'insegnamento e nella formazione un'altra tragica notizia il 13 ottobre un male incurabile ha strappato alla vita Germano Bendotti leghista della prima ora ex assessore provinciale aveva 63 anni lo stesso giorno arriva la conferma attesa da tempo Verbagna entra nel parco della Valgrande grazie alla firma del presidente Mattarella insieme a Ornavasso e Mergozzo in treno dalla Svizzera con 3 chili di cocaina ed eroina nella borsa il 18 ottobre nigeriana arrestata dalla guardia di finanza di domo d'ossola il 27 ottobre la stangata frontalieri su piede di guerra la finanziaria infatti introduce la tassa sulla sanità per i lavoratori soggetti al vecchio sistema fiscale lutto nel mondo della musica il 2 novembre è morto a Novara Vic Vergeat chitarrista ossolano di fama internazionale aveva 72 anni l'8 novembre a Montecrestese l'ultimo saluto a Luigi Fovanna a Topolino aveva 93 anni l'ultimo testimone della lotta partigiana in ossola l'11 novembre il taglio del nastro per il palazzetto dello sport di Graveluna Toce l'opera era attesa da anni il 15 novembre arriva la notizia della morte di Franca Olmi prima presidente del parco Valgrande figura di spicco nel territorio del VCO sfiorata la tragedia il 22 novembre lungo la linea ferroviaria del Sempione probabilmente per un problema ai freni un treno merci percorre 10 km senza guida tra Apreglia e Domo 2 il macchinista in ospedale dopo essersi gettato in corsa il 24 novembre a Baveno al Grand Hotel Dino l'apertura dei lavori del forum del turismo la ministra Daniela Santanchè firma con il governatore piemontese Alberto Cirio la sindaca stresiana Marcella Severino l'accordo di programma per la ripartenza della funivia del Mottarone prevista per il 2025 il 27 novembre a Santa Maria Maggiore la celebrazione ufficiale per i 100 anni della ferrovia Vigezzina lutto il 4 dicembre per il filantropo svizzero Leonardo Gianadda era cittadino onorario di Domo il 7 dicembre fa discutere a Verbagna l'arresto in seguito alle indagini dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di un medico di medicina generale un addetto delle poste secondo quanto emerso il primo avrebbe firmato falsi certificati di malattia che da due anni consentivano al postino di non lavorare mentre però regolarmente gestiva un bar di intra intestato al figlio il 15 dicembre il giornalismo locale Piange Marco Fotti 55 anni di Pettenasco cronista sportivo seguiva danni Novara Calcio aveva collaborato con giornali ed emittenti locali e nazionali la sera del 15 dicembre la triste scoperta in un dirupo alato della strada tra Colle e Trarego viene trovata l'auto dei coniugi Sergio Pedroni di 89 anni e Luigia Minoletti di 87 di Trarego Vigiona a bordo i loro corpi senza vita i figli avevano segnalato la scomparsa il 19 dicembre la macrava scoperta 80 tra Cervi e Daini sono stati trovati uccisi in un'area agricola di Agrate Conturbia dai carabinieri forestali di Lisa denunciato un agricoltore della zona sequestrate anche diverse armi e per il momento è tutto vi auguriamo una buona serata e un'ottima conclusione di questo 2023 ci rivediamo alle prossime edizioni